Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Rispetto alla nostra tabella di marcia, concluderemo il nostro percorso con un appuntamento di anticipo. E quindi questa sera è l'ultima catechesi. Chiudiamo il nostro percorso sul Padre Nostro. Perché questo? Perché approfondendo la frase di questa sera, mi sono reso conto che non poteva essere trattata senza l'altra frase. Quindi stasera noi tratteremo non abbandonarci alla tentazione, ma per completezza va considerata anche l'altra frase, ma liberarci dal male. Perché l'argomento è lo stesso. Sono due facce della stessa medaglia, quelle che tratteremo questa sera. E allora ci avviamo serenamente alla conclusione parlando del male. Perché questo è l'argomento di questa ultima richiesta del Padre Nostro. Che cosa abbiamo fatto e come rivolgiamo questa richiesta al Padre? Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Vedete, noi la rivolgiamo al Signore come abbiamo fatto tutte le altre richieste, con lo stesso spirito, lo spirito dei figli. Ma di quali figli? Non solo dei figli che hanno scoperto un Padre che li ama, ma che guardando a se stessi hanno compreso una cosa importante. che non bastano a se stessi, che non sono autosufficienti. Vedete, il Vangelo di oggi ci aiuta tantissimo in questa realtà. Perché? Per chi è stato ammessa, per chi ha avuto modo di leggerlo. Il Vangelo di oggi è una confessione da parte di Gesù della sua relazione con il Padre. E Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, tutto quello che vedo fare al Padre anch'io lo faccio. Le parole che io vi dico non sono mie, ma le ho sentite dal Padre. non faccio niente da me stesso, se non quello che vedo fare al Padre. E Gesù parla di questa sua intima relazione con il Padre, questa relazione d'amore con il Padre che giustifica una sola cosa, l'atto più nobile e grande che ci possa essere nella libertà. rinunciare alla propria libertà. Quella è la massima espressione della libertà. La rinuncia alla propria libertà, che può sembrare una contraddizione in termini, detta così, ma che solo l'amore comprende. Perché se tu rinunci alla tua libertà e non lo fai in un contesto di amore e in una relazione di amore, tu stai cedendo la tua caratteristica propria, la tua identità propria e ti avvii a un'esperienza di schiavitù. Perché solo gli schiavi rinunciano a se stessi. Se non c'è l'amore che descrive il tutto, che giustifica il tutto, che fa comprendere il tutto, perché per amore, sì, puoi rinunciare a te stesso. Ma fuori dall'amore tutto questo diventa molto pericoloso. Tutto questo diventa molto problematico anche da vivere. E allora noi lo chiediamo e ci chiediamo tutte le frasi e le domande del Padre nostro, le facciamo da figli, da figli non autosufficienti, che non bastano a se stessi, ma che sanno che ricevono tutto dal Padre. Per questo chiedono tutto al Padre. Una piccola nota non politicamente corretta della nostra preghiera. Tante volte c'è stato insegnato che al Padre dobbiamo chiedere le cose importanti. Sì, è vero, ma in un rapporto di figlio e padre, figlia e padre, figlia e madre, perché Giovanni Paolo II ci ha detto, Giovanni Paolo I, scusate, ci ha detto che Dio è padre e madre. Noi chiediamo solo le cose importanti ai nostri genitori, ma parliamo di tutto con loro e chiediamo tutto, anche quello che può sembrare banale. Allora perché non fare la stessa cosa con il nostro Signore? Chiedere da Signore, ora che finisce la riunione, fa che non piova. Che andiamo a chiedere al nostro Signore? Alla cosa più grande, Signore aiutami ad affrontare questa malattia. Ma non perché, come dire, come chi si siede e aspetta che gli cada dal cielo tutto, ma all'interno di questa relazione in cui io, con cuore aperto, parlo di tutto con mio padre e tutto affido a mio padre. Poi certo, se esco di qua e non ho portato l'ombrello, io arriverò bagnato a casa. La cosa è abbastanza ovvia, questo. Però perché non vivere anche questo passaggio, quello che sto per vivere nell'intimità con lui che mi accompagna, cammina con me. E vedete, è proprio questo anche il senso dell'ultima frase che noi andiamo ad approfondire questa sera. Questo non abbandonarci alla tentazione nella nuova traduzione, ma liberaci dal male. Che cosa quindi chiediamo da figli, da figli che hanno compreso che affidarsi totalmente al padre e mettersi nelle mani del padre non toglie niente alla nostra dignità e alla nostra umanità e anche alla nostra libertà. E poi abbiamo fatto un percorso, come dicevamo anche la volta scorsa, un percorso sapienziale che è all'interno della preghiera del padre nostro. Si parte dalle cose importanti, alte, ciò che riguarda il padre, per poi arrivare ai nostri bisogni e alle nostre realtà. Ma c'è all'interno di questo anche un percorso pedagogico. Perché noi, nella manifestazione dei nostri bisogni, siamo partiti dal pane quotidiano. E quindi dai bisogni più immediati, che riguardano la nostra sopravvivenza, che riguardano la nostra fame, fino ad arrivare alle grandi questioni, come la questione del male, che affrontiamo nelle ultime richieste, in questa richiesta liberaci dal male. E quindi perché così, lentamente, anche nella preghiera, il Signore ci ha preso per mano dalle cose immediate, da quello che vediamo, da quello che sperimentiamo, fino al senso profondo, alla battaglia profonda che occupa la nostra esistenza e la nostra vita da cristiani. Ma tutto concatenato. Perché vi ricordate, la volta scorsa noi abbiamo parlato del perdono, della capacità di perdonare gli altri e quindi di scontrarsi con le difficoltà, la cattiveria degli altri. E questa non abbandonarci alla tentazione e liberarci dal male è legatissimo alla questione dell'esperienza della sofferenza che deriva dal male e dalla cattiveria altrui, oppure dalla cattiveria nostra anche. E quindi vi rendete conto come tutto è concatenato. Ora, vedete, noi dobbiamo affrontare il tema della traduzione che è cambiata da non indurci in tentazione, che era l'espressione usata da San Girolamo, cioè la traduzione fatta letteralmente da San Girolamo e che poi nella vulgata e poi dal latino è passata direttamente all'italiano nella vecchia formula. Perché il termine che c'è sotto qui non è semplicissimo da tradurre, perché ha un ventaglio di traduzioni. L'espressione greca di non farci subire, non farci entrare in questa situazione, perché questo è quello che vuol dire questo verbo in greco, non lasciarci soli anche in questa situazione. Per questo vi rendete conto che la traduzione che noi abbiamo non abbandonarci alla tentazione è una interpretazione del verbo e dell'espressione greca, non è una traduzione letterale in questo termine, ma viene interpretato, viene interpretato quel passaggio. Però io prima mi è venuto, pensando a San Girolamo e alla sua traduzione, un pensiero sul giudizio, non ci azzecca niente con il Padre nostro. Però è un pensiero sul giudizio che mi è venuto e su una tendenza che sta prendendo piede, tristissima, che è il moralismo imperante. Che cosa voglio dire? il moralismo che cosa porta? A giudicare opere e persona. Che cosa ha fatto e chi lo fa? Questo è il becero moralismo. Perché, vedete, San Girolamo, io ho avuto modo di incrociarlo perché nei miei studi ho incrociato Sant'Ambrogio e Sant'Ambrogio e Sant'Ambrogio e Sant'Ambrogio si odiavano cordialmente. sì. E San Girolamo ha detto delle cose su Sant'Ambrogio, ha scritto, perché San Girolamo era bravissimo, delle cose su Sant'Ambrogio che sono terribili. L'ha chiamato approfittatore, copione, che non è capace di pensare niente di nuovo. Questo, come dire, San Girolamo era il segretario del Papa a Roma e Sant'Ambrogio era il Vescovo di Milano e si scambiavano cordialmente nelle loro opere queste invettive. Ora, noi sappiamo che questa è una cosa terribile, insomma, criticarsi in questa maniera, ma questo non toglie che San Girolamo è stato un genio nella sua opera. Non lo toglie da nessuna parte. Allora, riuscire sempre a trovare il bene nelle cose e nelle persone e non commettere quell'errore di passare da una cosa fatta male alla persona che la fa. Perché forse quella cosa è fatta male, ma altre cose sono belle e fatte bene. E allora la nostra capacità di giudizio, dove si condanna il peccato, ma mai il peccatore. In questo era maestro Giovanni XXIII. Nella pace Minterris, lui arriva a teorizzare questa, la condanna del peccato, ma mai del peccatore, dell'errore, ma non dell'errante di chi lo commette. Perché c'è del bene sempre. In questi giorni un sacerdote mi ha fatto notare una cosa, che noi, nella Sagra Scrittura, stasera è pericoloso perché mi sto allargando. Allora, noi leggiamo i salmi bellissimi nella Sagra Scrittura, i salmi che li ripetiamo a messa, liturgicamente, ci preghiamo le lodi, le nostre preghiere. E noi li facciamo risalire al Davide, un assassino, un adultero, un fetente, e ne ha combinate più lui che tutti quanti messi insieme nella storia di Israele. Ma noi pregiamo e sono bellissimi e costituiscono la nostra preghiera. Ma l'ha scritto un fetente. Allora, imparare a trovare il buono, sempre. E il Signore ci dia questa capacità e questa luce di saper trovare sempre il bene. Chiusa enorme parentesi che ho fatto sul giudizio. Allora, che cosa chiediamo con non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male? Perché vedete, con la frase, la richiesta, dacci oggi il nostro pane quotidiano, noi in un certo senso già chiediamo di essere aiutati nei problemi che ci possono essere come la salute, la casa, il lavoro. Quindi a quale male fa riferimento questa espressione? Non al male sperimentato, al male contingente, al male di ogni giorno. Qui si fa riferimento a un male distruttivo, il più pericoloso, che è il male morale. E quel male che noi ci diamo, da quel male chiediamo di essere liberati, da quel male che si manifesta in diverse forme, dal male morale in sé, dal male che diventa esperienza collettiva. Cosa significa il male che diventa esperienza collettiva? Il razzismo è quando un intero popolo pensa questa cosa o mette in campo, per esempio, pensate all'apartheid. Quello era un popolo che viveva quello, che l'aveva fatto diventare legge, quella segregazione razziale. Oppure tante altre cose che noi viviamo anche, che diventano condivise da intere fasce della popolazione. Ma quello rimane sempre male, diventa un male collettivo. E poi c'è una cosa ancora più perniciosa, più pericolosa. L'ideologia che giustifica quell'azione. E quindi quell'ideologia, voi pensate, l'uccisione degli ebrei. E quella era un'azione collettiva. C'è quel bellissimo testo. Ecco, la mia memoria. La banalità del male. Anna Arendt. E che descrive proprio questo fenomeno collettivo del male e dell'ideologia del nazismo, che è ancora più pericoloso, perché quello giustifica la banalità del male. E' quel modo di pensare. E' quelle idee che hanno generato questo. Noi oggi parliamo di quel male che prende forma. E Giovanni Paolo II parlava delle strutture di peccato. Cioè quando alcune cose diventano patrimonio condiviso. Che diventano abitudini, modo di pensare, modo di agire, di tutti quanti. E diventano strutture della nostra vita. Questo male, che noi sappiamo però, ha una radice. Una radice personale. La radice personale è quello che noi chiamiamo l'assassino. Quello che noi chiamiamo l'origine di ogni male. Viene definito dalla Sacra Scrittura. Il nemico di Dio. Quello che noi chiamiamo il separatore. Il maestro della divisione. E' letteralmente dalla parola grega. Diabolo. Diavolo. Nella nostra traduzione. Perché è lui. Quell'essere personale. Perché c'è un essere personale. Che genera però. Genera una. Mentalità. Perché vedete. Noi a che cosa ci riferiamo. Parlando quando diciamo liberaci dal male. Poi dopo vi spiegherò perché sto iniziando da questa parte. E poi andremo a non indurci. A non abbandonarci alla tentazione. Il termine greco. Mi sono preparato per questo questo questa sera. Apotuponerù. Cioè liberaci. Quello che noi traduciamo con liberaci dal male. Ma lì. Poneros. E' un aggettivo. E' un aggettivo che nella storia della Chiesa. E' stato tradotto in due modi diversi. Perché voi sapete che in greco. Questi sono illustrissimi docenti che potrebbero parlare al posto mio. Ogni aggettivo aveva le tre forme. Quindi il maschile, il femminile e il neutro. E tra occidente e oriente c'è stata una diversa interpretazione. Perché in occidente noi l'abbiamo tradotto sempre al maschile. Liberaci dal cattivo. Dal dannoso. E quindi dal maligno. Mentre in oriente l'hanno tradotto sempre con liberaci dalla cattiveria. Dalla malvagità. Dalla malignità. Vedete queste due cose non sono in contraddizione. Perché il male è personificato ma è anche attivo. E quindi è anche azione. E quindi maligno e malignità è l'identificazione personale e l'azione compiuta dal cattivo e dal maligno. Quindi non c'è contraddizione tra le due traduzioni. Scusate. E questo è quello che noi andiamo a vivere. A vivere il nemico di Dio che è l'origine di ogni peccato. Che è dietro a ogni peccato. E che muove le dimensioni del peccato. Vedete, basta perché dico questo. Tenete davanti agli vostri occhi. Genesi 2. Il racconto del peccato originale. Vi ricordate? Grosso modo. Non vado a leggere il testo. Ve lo ricordo soltanto a un certo punto. Eva inizia un dialogo, un dialogo con il serpente, con la più astuta delle bestie, dice il testo. E qual è l'oggetto del dialogo? L'oggetto del dialogo è... Vedete che voi avete conosciuto un tipo di Dio in un certo modo. E quindi Dio come padre, come datore di vita, come colui che dialoga con voi. Ma vedete che non è così. Perché non vi vuole bene. E lui è geloso del suo potere. Perché alla fine è questo che è quello che dice. Vi ha detto che non dovevate mangiare. Vi ha messo dei limiti nella vostra vita. E questo limite è quello di non mangiare. Viene rappresentato questo limite dal non mangiare il frutto dell'arbero. Perché se voi superate il limite, e voi diventate illimitati, e voi diventate come lui. E lui è geloso del suo potere. Per questo vi ha messo dei limiti a voi. Per non farvi essere come lui. E allora la prima azione è quella di cambiare l'idea di Dio. L'immagine di Dio nel cuore di Eva e nel cuore di Adamo. E' come dire, non dire tutta la verità. Perché qual è l'arte del maligno? Vedete. L'arte del maligno è comporre delle verità in maniera sbagliata. In modo da confondere e far sbagliare strada. Perché questo è l'arte del maligno. Perché lui le cose le dice, ma non in maniera completa. E non tutta la verità. Una parte della verità. Perché si apriranno i vostri occhi. E certo si sono aperti gli occhi. Loro. Ma che cosa hanno visto? Non hanno visto l'essere diventati come Dio. Ma la capacità di accettare la propria miseria. Che è solo di Dio. Che ci dà la forza. Vedete, è quello che noi chiediamo oggi. Quel non abbandonarci alla tentazione. E' proprio questo. Non lasciarci soccombere nelle prove. Nella prova. Non lasciarci soli. Questo è quello che chiediamo. Rimani con noi. Perché senza di te. la durezza della prova non saremmo capaci di superarla. Esempi? Gesù nel massimo momento della sua prova. Il Getsemani. Pietro, Giacomo e Giovanni. Venite con me. Pregate insieme con me. Fatemi compagnia. Rimanete svegli. Lui si allontana. Va a pregare. Padre, se è possibile, passi da me. Questo calice. E poi cerca conforto. Negli amici. Più cari. Si alza. Torna. E li trova addormentati. Se ne va un'altra volta. Ritorna. E li trova addormentati. Vegliate. E pregate. Per non cadere in tentazione. Magari le cerni cadute. E qual è la conseguenza di questo? Quello di affrontare la prova e di scappare. Perché tutti quanti se ne vanno. Rimane solo Giovanni, il più giovane, insieme con Gesù e con Maria, ai piedi della croce. Gli altri rimangono scandalizzati e dominati dalla paura. Che cosa chiediamo con il non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male? Salvaci, Signore, dalla disperazione. Essenzialmente questo. Non lasciarci da solo. Perché rimanendo da soli nella tentazione e nella prova, noi corriamo il rischio di disperarci. Di avere paura. Di cadere sotto i colpi della prova e della tentazione. Voi vedete, io sto usando indifferentemente due termini. Tentazione e prova. Perché il termine greco, che voi sapete i termini greci sono polisemantici, insomma hanno diversi significati, diverse parole. E peirasmon, che è la parola che noi traduciamo con tentazione, può significare anche prova. E le cose sono, la differenza è importante. Perché la prova può venire da Dio e la manda a Dio. La tentazione Dio non la può mandare. Mi leggo questo, un testo. Nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male. E non tenda nessuno al male. Piuttosto è tentato dalla propria copuidigia, che lo attrae e lo seduce. Questo l'uomo, non Dio. Il soggetto cambia. E nessuno, ciascuno, piuttosto è tentato dalla propria copuidigia, che lo attrae e lo seduce. Perché è una contraddizione in termini. Dio è sommo bene e non può essere male. E non può tentare al male. La tentazione è spinta, è seduzione del male, è stimolo al male. La prova no. Io porto sempre un esempio. Qualcuno di voi forse mi ha già ascoltato, perché qualche domenica fa, io nell'Omelia ho fatto questo passaggio, nel fatto della prova. Allora, la prova abbiamo detto che può venire da Dio. Può venire da Dio. L'esempio che io porto sempre è una persona che è stata provata. La Vergine Maria. Perché anche la Vergine Maria è stata provata. Anche lei è cresciuta nella fede. In che cosa consiste la prova della Vergine Maria? O come la prova di Gesù? Stesso nel deserto. Tenete presente? O nella croce, liberami, passi da me questo calice. Anche quello era un momento di scelta, di prova. La prova consiste tra scegliere tra bene e un bene migliore. La tentazione è scegliere tra bene e male. Questa è la differenza. Maria, alle nozze di Cana, si accorge che non hanno più vino, va dal figlio e gli dice figlio, non hanno più vino. E Gesù, avete visto, gli risponde non andare di pressa, cara madre. perché non è ancora giunta la mia ora, perché io farò un'opera grande che salverà tutti e risolverò ogni situazione e darò la felicità. Ma quella è l'ora della croce. È il passaggio della croce. L'opera per cui io sono venuto, la mia ora. Ora, tu che vuoi? L'ho detto proprio così, permettetemi, anche la Vergine Santa mi permetta di fare questa battuta. Maria che cosa fa? No, Maria non insiste. Non insiste. Maria si trova a scegliere tra la parola del figlio che sa che figlio è, quello lì, lei lo sa, che è il figlio di Dio, che gli ha detto fermati, fermati, e la sua infinita fiducia in Dio. Dio ama i suoi figli e provvederà per i suoi figli. Per questo lei va dai servi e dice fate tutto quello che vi dirà. Che è un atto di fiducia, di grande fiducia in Dio e nella sua provvidenza e nel suo amore per i figli. Ma è che tratta di una scelta. Ascoltare il figlio che è un bene, è un atto di obbedienza al figlio che è il figlio di Dio e lei lo sa benissimo, e la fiducia grande in Dio. Quella è la prova. la tentazione è scegliere tra bene e male. Tu hai un bisogno? Gli dice il demonio a Gesù. Tieni un bisogno. Hai fame? Ma tu tu fai i miracoli. Trasforma queste pietre in pane e risolvi i tuoi bisogni. Perché bisogna soddisfare i propri bisogni. non di solo pane l'abbiamo anche visto non di solo pane vivrà l'uomo. Il Signore cita la scrittura, cita Mosè. Tu sei il figlio di Dio. Vuoi ottenere la gente? Vuoi tenere vicino a te la gente? E allora fai spettacolo. Religione spettacolo. Perché così la gente corre da te. allora vai sul pinnacolo del Tempio e buttati giù e allora arriveranno gli angeli ti vedranno scendere come Iron Man e quindi avrai tutti qua sarai un supereroe. Ma il figlio di Dio non è un supereroe. E allora vedete come dire il solletico che viene fatto. e allora la tentazione. Quindi Dio non può tentarci al male. Non può tentarci al male. Noi chiediamo che lui si mostri padre. Essenzialmente che rimanga sempre padre. San Paolo ci spiega che un padre non chiede l'assurdo per i propri figli. e quindi per quanto noi di fronte alle prove di fronte alla tentazione facciamo fatica a pensare che passi c'è un'espressione che a me piace tanto ripeterla che è di un santo vescovo in c'è in atto il processo di canonizzazione il vescovo Don Tonino Bello che diceva noi non dobbiamo spaventarci perché l'ora della croce dura da mezzogiorno alle tre. Che cosa voleva dire Don Tonino Bello? Che il male è limitato. Solo il bene è infinito. il male è limitato. Ha dei limiti. E quindi per quanto noi stiamo attraversando un brutto periodo una grande prova dobbiamo ricordarci che ha dei limiti questa prova. Non è eterna e non è più grande di noi. Come ci dice San Paolo nessuna prova vi ha finora sorpresi se non umana. Infatti Dio è fedele e non permetterà che siate provati oltre le vostre forze ma con la prova vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla. perché vedete noi dobbiamo farci un'altra domanda e io mi devo però contenere nei tempi perché Dio ci ha liberato dal peccato originale e ci ha lasciato le conseguenze. Non poteva fare un pacchetto unico. Quindi prendeva ci toglieva il peccato originale come ce l'ha tolto con il battesimo e soprattutto con la sua vittoria in croce perché noi il male l'abbiamo già sconfitto questa è la è la nostra vittoria perché Cristo ha già vinto ha già vinto Cristo ci ha già salvato voi sapete che ogni tanto questa frase ce la diciamo pure tra noi anche tra noi sacerdoti quando in maniera particolare qualche volta andiamo in difficoltà per quello che succeda la gente non risponde alle nostre iniziative che è bellissimo insomma anche questo e quanta fatica facciamo ma non capisce in genere ci confortiamo dicendo ma non ti preoccupare Gesù ha già fatto tutto Gesù ci ha già salvati è lui il salvatore non siamo noi quando noi sapete ci sentiamo il mondo sulle spalle che lo portiamo solo noi il mondo questo capita pure ai preti che tutti quando non ci sentiamo i salvatori della patria Gesù ha già fatto tutto questo ha già salvato Gesù la nostra vita e allora questo non dobbiamo dimenticarlo però la domanda rimane là perché ci ha lasciato le conseguenze perché vedete la tentazione la prova ci serve ci serve ci serve ci serve per conoscere noi stessi per progredire nel bene è un padre che vuole educare i suoi figli come dicevamo nella preghiera del padre nostro parte dai bisogni il signore poi lentamente ci porta sempre a cose più alte fino al male fino a poi vedere la bellezza del suo disegno che abbiamo visto nella prima nella prima parte nei suoi desideri solo che noi ce lo dovremmo ricordare più spesso e come la frase di Gesù rimane sempre valida vegliate e pregate vegliate e pregate perché senza di lui noi non la vinciamo non ne usciamo dalla prova non la superiamo perché siamo tentati alla disperazione tentati a pensare che quello che ci capita non finirà mai non finirà mai e invece no e voglio concludere con le parole di Papa Francesco parlando proprio di questa analizzando questa frase e dice Papa Francesco è con noi quando ci dà la vita è con noi durante la vita parla del Signore è con noi nella gioia è con noi nelle prove è con noi nelle tristezze è con noi nelle sconfitte quando noi pecchiamo ma sempre è con noi perché Padre e non può abbandonarci Amen e allora tutto questo nostro itinerario perché porti frutto lo dobbiamo portare nella preghiera voi sapete qual è il senso del perché il Signore sottolinea sia nella creazione che al settimo giorno lui si riposò e poi chiese a tutti quanti noi di riposarci e gli ebrei l'hanno letto nel sabato e noi nella domenica qual è il senso di quel riposo il senso del riposo è che quel giorno noi cessiamo di fare i protagonisti della nostra vita per metterci nelle mani sue perché è lui che può dire la parola compimento c'è un'espressione di Fulton Sheen questo vescovo di New York dell'inizio del secolo scorso che diceva commentando la parola tutto è compiuto dice tutto è compiuto è un'espressione che solo Dio può dire perché solo Lui porta a compimento e solo Lui può dire la parola fine noi non possiamo dire la parola fine e allora tutto questo significa tutto quello che abbiamo fatto io vi ringrazio di questo percorso che abbiamo fatto insieme il Signore apra voi avete dato la disponibilità venendo qui il Signore operi in questa disponibilità allargando il vostro cuore donandovi la sapienza delle sue parole e di quello che il Signore ci ha permesso di comprendere insieme ma questo crescerà nella misura in cui voi lo terrete sempre con voi il Signore e allora e ci mettiamo nelle mani della Vergine Santa preghiamo ave maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte vi benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo Amen grazie grazie a tutti quanti voi